Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi voglio spiegare come fare l'evento rituale delle magliarde in eroico come prima cosa dovremo andare sulle piastre posizionate a destra e a sinistra del portale e uccidere il cavaliere che vi è sopra una volta ucciso il cavaliere cosa succederà? dovrete rimanere ancora sopra la piastra così da poter levare lo scudo alla magliarda una volta che si è levato lo scudo bianco riuscite a ucciderla, andate sulla prossima piastra e così via una volta sconfitte le due magliarde si aprirà il portale, per avviare l'evento eroico dovremo stare sulle piastre e distruggere i due cristalli che si troveranno a destra e a sinistra una volta distrutti i due cristalli l'evento eroico si avvierà, dal portale uscirà un miniboss e per completare l'evento dovremmo ucciderlo una volta completato l'evento la cassa verrà rilasciata al centro dove c'è il portale e l'evento sarà completato e niente ragazzi grazie mille per aver guardato questo video noi ci vediamo in un prossimo video alla prossima